Buongiorno a tutti, sono Roberto Gianoglio, segretario studi con Farca. Ho l'onore e l'onere di inaugurare questo nuovo appuntamento settimanale con tutti gli associati con Farca, durante il quale le tre segreterie, studi di consulenza, autoscuole, scuole nautiche, insieme a responsabili dei consorsi, di volta in volta faranno per voi il punto sui vari argomenti, esponendo le novità e comunicando le varie iniziative settore per settore. Cercheremo di svolgere al meglio questo compito, ma naturalmente tutti i vostri suggerimenti sono ben accetti. Il documento unico sarà l'argomento di oggi. Giorno per giorno infatti vengono comunicati nove giornamenti in materia, come per esempio la possibilità di trasmettere da parte dei nostri uffici direttamente le radiazioni con fermi amministrativi, oppure le implementazioni degli atti da noi autenticabili in qualità di soggetti autorizzati del G264. Vedi per esempio gli atti per le prime iscrizioni dei veicoli con titolo autorizzativo. Quest'ultima modifica esclude la validazione preventiva degli atti cartacei da parte del pubblico registro prima della presentazione. In tal senso è stata recepita la segnalazione che Confarca ha fatto sulle norme problematiche che questa procedura avrebbe creato nell'applicazione. A oggi dovreste aver provveduto alla registrazione per ottenere la firma digitale remota, l'FDR, necessaria per l'iscrizione nei registri degli autenticatori. In tal caso vi consiglio di farlo quanto prima per essere subito operativi appena possibile. Stiamo approntando, pianificando degli appuntamenti sul territorio con dei tecnici specialisti affinché possano esporre le nuove procedure del documento unico. È iniziata in questi giorni la sperimentazione da parte di alcuni studi di consulenza nelle province di Terni, di Terbo e Terbo e non appena saranno disponibili vi commenteremo gli aggiornamenti e l'andamento. In ultimo vi ricordo, qualora non l'aveste già fatto, la registrazione al nostro sito www.patenterinnovata.it è un'importante vetrina che Confarca offre gratuitamente a tutti gli associati per aumentare la visibilità dei nostri servizi offerti appunto dalle nostre aziende. Grazie a tutti voi e un sincero buon lavoro. Grazie.